Questo strumento è uno strumento che è entrato in produzione fine maggio 2020. È naturale che all'epoca e per tutta l'estate non c'è stata fortunatamente una grossa richiesta di test e quindi abbiamo eseguito un numero limitato, cioè quello che ci veniva chiesto noi si faceva. Ha portato con sé anche diverse polemiche, ma ora che la seconda ondata Covid è arrivata è il perno del sistema di diagnostica del coronavirus in Abruzzo. Si chiama Open Trance Workstation ed è il processatore di tamponi installato nel laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara. Nelle settimane in cui in Abruzzo si è superata quota 3.000 tamponi, il macchinario di progettazione statunitense e costruzione cinese, acquistato ad aprile anche grazie a 132.000 euro di donazioni, è quasi al massimo della sua potenzialità, cioè 2.400 tamponi in 24 ore. Lo strumento, ha spiegato il dottor Paolo Fazzi, offre la possibilità di utilizzare 4-5 reagenti diversi, consentendo così di fronteggiare anche eventuali mancanze di materiale per le analisi. La sua messa a punto ha richiesto un lavoro congiunto e remoto tra Italia e Stati Uniti ed ora è pronto a collaborare con gli altri laboratori, come quelli di Chieti, Teramo e L'Aquila, per garantire, si è detto in conferenza stampa, una potenza di analisi adeguata a fronteggiare l'evolversi della pandemia in regione. Quindi la potenzialità è questa, se dovessero cambiare le situazioni in maniera negativa, noi siamo pronti, sia con questo strumento che con altri che abbiamo, altri tipi di diagnostici, ad esempio tra poco avremo, stiamo in procinto, però ci vorranno alcune settimane di avere i testi diagnostici cosiddetti antigenici da naso che pure ci daranno una mano importante. E' preoccupato da quanto sta accadendo in queste settimane per quanto riguarda la curva epidemiologica? Allora, bisogna sempre avere paura, perché è comunque la preoccupazione che ci dice che dobbiamo utilizzare le mascherine e fare tutto quello che bisogna fare. Sono moderatamente preoccupato, ma in maniera positiva, nel senso che se tutti quanti facciamo il nostro, sconfiggeremo questa brutta virosi.